Non è stata una sfida all'Hockey Corral, perché pur sempre di persone eleganti nei modi si sta parlando, ma quella fra Cristian Fiazza, assessora alla cultura della Giunta Tarasconi, e Jonathan Papamarenghi, che ha ricoperto lo stesso ruolo durante la passata amministrazione targata Barbieri, è una sfida che ha riservato parecchio Pepe. Per approfondire la direzione che sta prendendo la cultura piacentina, i due politici si sono ritrovati faccia a faccia nel mierino, incalzati dalla conduttrice Nicoletta Bracchi e dal giornalista Thomas Trenchi. Non sono mancati gli spunti. Ha citato il Klimt ad Aosta. Il Klimt è un brand, è il nostro marchio principale. Ovunque va può portare grandi successi. A quanto pare non a Piacenza però nell'ultimo periodo, perché in un mese al forte di Barth ha portato oltre 11.000 visitatori. Li portava anche qui a Piacenza perché nel periodo della mostra ne abbiamo avuti una media di 19.000 al mese. Sono numeri importanti, ma vuol dire che non ci si sta investendo con la giusta convinzione. E queste sono scelte politiche. La scelta di spostare il Klimt al forte di Bard nasce dalla consapevolezza che il Klimt è sì, come dicevamo, un elemento importante dal punto di vista artistico essenziale, ma anche un tema di marketing per il territorio. Oggi la signora rappresenta Piacenza. Al tavolo dello spazio rotativo erano seduti anche Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e Antonio Iommelli, direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese. Nelle loro parole l'attività della Fondazione e di XNL è la mostra ai fasti di Elisabetta Farnese, ritratto di una signora. La mostra è importante perché riunisce questi fasti, che sono attualmente divisi su più sedi, una delle forze che dobbiamo tenere tutti quanti in mente e dobbiamo mettere al centro di questo tavolo è la programmazione. Valorizzare le collezioni. Faccio dei nomi. La Margherita Caffi è una grande pittrice. Morazzone muore a Piacenza nel 1626. Un prototipo del cavallo di Mocchi in una collezione privata. La Fondazione ha proprio questa natura sussidiaria. Significa condividere ed esaltare le competenze di ciascuno. Questo è successo per esempio con il Festival del Pensare Contemporaneo. Come sempre la puntata sarà disponibile sul canale on demand www.teleliberta.tv